Recentemente una persona speciale mi ha fatto sapere come osservi, guardi, segua con attenzione e piacere i miei video dedicati all'esoterismo e all'umisticismo, soprattutto perché le piace come io smonto dei luoghi comuni della supercazzola, come andiamo a dire. Oggi perciò ho deciso di dedicare a questa persona e dedicare a voi tutti un video, chiamiamolo, anacronistico, vecchio, storico, un po' antologico, che riguarda un personaggio noto ai più, specialmente tra i cialtroni del finto esoterismo, che è stato definito da Lester Crowley un burlone, una persona che amava per fulgare gli altri, il francese, il suo vero nome era Alphonse Louis Costanz, parigino doc, che ha fatto per un periodo un cammino ecclesiastico e seminario fino ad arrivare a diventare diacone, non abate, come dicono i cialtroni. Sto parlando di lui, di Eliphas Lévy, questo è il nome che si è dato, il nome d'arte esoterico, e per parlare di lui sono andato nella mia biblioteca a recuperare un testo estremamente antico che mi fu donato da persona molto addentro al mondo dell'esoterismo. Sto parlando di la storia della magia. Amanti dell'esoterismo e della magia, vi ricordo che è disponibile in tutte le librerie store online e sotto nelle descrizioni vi lascio il link Amazon per la più facile e comoda delle spedizioni. In cosa? Il mio nuovo romanzo, Mr. Crowley, le croniche di Cefalù, un giallo a tinte noire, stracolmo di riferimenti che fanno fede all'ermetismo e alla ricerca esoterica di Rister Crowley, proprio sul magista più famoso e pericoloso della storia del mondo, the weakest man in the world, l'uomo più cattivo del mondo. Sì, lui, Alistair Crowley, è il periodo in cui ha risieduto in Sicilia per l'esattezza a Cefalù. Fatelo vostro. Quando si parla di Eliphas Lévy, o Alphonse Louis Constance, come preferite chiamarlo, si parla di uno dei massimi espotenti di quello che è l'esoterismo della rinascita oppure del nuovo millennio, della rivisitazione spirituale. Eliphas Lévy fu il primo che introdusse le potenzialità e le tematiche della Kabbalah, ovvero della mistica ebraica, all'interno dei discorsi esoterici occidentali, rifugiando, almeno allontanandosi completamente dagli estereotipi, che vogliamo dire, di derivazione ultracattolica per andare a perlustrare luoghi fino ad allora sconosciuti. Questo libro di Eliphas Lévy, questa è un'edizione degli anni, ve lo dico subito, perdonatemi, non ho la memoria di ferro, considerare questa edizione, questo libro del 1924, è considerato veramente la Bibbia dell'antologia magica. E, come ho detto in capo a questo video, lo stesso Crowley, nel suo libro di Tot, il libro dedicato al mondo dei trocchi, dedica addirittura un capitolo a questa figura. Crowley lo definisce, lo ripeto, un simpatico burlone, nel senso non che fosse lui portatore di stupidaggine, ma che amava cialtronare gli altri, e lo definisce una persona estremamente preparata, soprattutto per quello che riguarda due cose, la sua sapienza cabalistica e la sua mania, ossessione e conoscenza del mondo dei trocchi. Ora, apro e chiudo parentesi, sempre questa persona che definiremo speciale, che mi ha detto, che mi ha confessato il suo piacere nell'osservare i miei video esoterici, nelle quali spacco i culi dei cialtroni, è anche una persona che, purtroppo per lei, fa divinazione, io le ho sconsigliato di fare divinazione, ma questo sarà un argomento che tratteremo più avanti, le diremo i lati negativi della divinazione, cosa che viene spiegata anche da buon Eliphas Levi. Perché è definito un simpatico cialtrone da Crowley o un buffone? Perché lui in realtà, e Crowley ha appreso molto da lui, non ha mai detto la verità vera delle cose, nel senso che lui nascondeva le verità dietro le allegorie e soprattutto diceva le verità a mezza bocca. Vi piace così? Ok. La storia della magia, diciamo che, ripercorre un po' tutti i luoghi comuni magici che erano presenti fino all'inizio della seconda metà dell'Ottocento, epoca in cui lui è vissuto, e diciamo ci chiarisce un po' di concetti e finalmente mettendo su bianco alcune contraddizioni. Qualcuno potrebbe definirlo fondamentalmente un libro anticattolico, perché voi dovete capire che la magia, specialmente in quegli anni, antecedentemente al riconoscimento e all'arrivo di Levi, la magia era roba da cristiani esoterici, cioè di gette che ci metteva dentro una marea di cristianesimo. Diciamo che Eliphas Levi mette i puntini su lei, e perdonatemi il gioco di parole. Esso stesso ci dice che la magia, noi dobbiamo distinguerla da quello che è il concetto di mago berlino, ma è una espressione, una concretizzazione della volontà interiore all'uomo su ciò che è il mondo che lo circonda, argomento che poi approfondirà ancora meglio, svilupperà e porterà la sua massima espressione, proprio Crowley, con magic. Vi faccio notare immediatamente una cosa. Come ogni capitolo, poi vi faccio questo qua, no? Formazione della realizzazione del dogma, sia correlato con una lettera dell'alfabeto ebraico, in questo caso Beth, la seconda lettera dell'alfabeto ebraico. E se noi andiamo in giro per i vari capitoli di quest'opera, noterete come l'ebraismo sia alla base, o almeno più che l'ebraismo, la ricerca e la cultura cabalistica siano alla base di quest'opera. Ma ciò che più ci tengo a farvi leggere, se ci riesco sempre, perché devo trovare, ecco qua, devo trovare i capitoli, sono alcuni passaggi, tipo questo. Capitolo sesto delle superstizioni. Cosa dice lui? Le superstizioni sono delle forme religiose che sopravvivono alle idee perdute. Tutte hanno avuto per ragion d'essere una verità che non si sa più e che si è trasfigurata. Il loro nome, dal latino superstes, significa ciò che sopravvive. Sono i resti materiali delle scienze e delle opinioni antiche. Questo è ciò che ci mette nero su bianco il caro vecchio Eliphas Levy in un libro che continua a dire per chiunque uno studioso, scusate, io nel frattempo continuo a sfogliare le pagine, no? Per chiunque uno studioso della magia, della ricerca esoterica, in tutto lo ritengo un acquisto irrinunciabile. Lo trovate anche in nuove traduzioni, un po' dovunque, in tutte le salse. Per esempio, Verità del cristianesimo, provata della magia. Lasciate stare il testo, notate come l'ebraismo, la lingua ebraica, sia proprio al centro di questa ricerca. Vi leggo solo questo. La magia, essendo la scienza dell'equilibrio universale, avendo per principio assoluto la verità, realtà, ragione dell'essere, rende conto di tutte le antinomie e concilia tutte le realtà opposte tra loro, con questo principio generatore di tutte le sintesi. L'armonia risulta dall'analogia dei contrari. Vedete frasi che dicono tutto e non dicono niente. Certo, dovete avere un minimo di pratica ermetica per poter capire questi concetti, ma voglio chiudere con, perdonate, con un incipit che mi ha particolarmente colpito, ritenuto interessante per la presentazione dell'opera, del diavolo. Capitolo terzo. Il cristianesimo, formulando nettamente la concezione divina, ci fa comprendere Dio come l'amore più puro e più assoluto e definisce nettamente lo spirito opposto a Dio e lo spirito dell'opposizione di odio e Satana. Ma questo spirito non è personaggio e non bisogna comprenderlo come una specie di Dio nero. è una perversità comune a tutte le intelligenze traviate. Io mi chiamo Legione e gli dice nel Vangelo perché noi siamo una moltitudine. L'intelligenza nascente può essere confrontata alla stella mattutina e se cade volontariamente nelle tenebre dopo aver brillato un istante si può applicarle quell'apostrofe di Isaia al re di Babilonia. Come sei tu caduto dal cielo bel lucifero brillante stella del mattino ma questo vuol dire forse che il lucifero celeste la stella mattutina dell'intelligenza divina sia diventata una fiaccola dell'inferno? Il nome di apportatore di luce è dato giustamente dall'angelo del traviamento e delle tenebre? Noi non lo pensiamo a meno che non si intenda come facciamo noi secondo le tradizioni magiche per inferno personificato in Satana e figurato all'antico serpente quel fuoco centrale che si avolge attorno alla terra divorando tutto ciò che produce e mordendosi la coda come il serpente di cromo quella luce astrale di cui il signore parlava quando diceva Caino se tu fai il male il peccato sarà subito alle tue porte cioè il disordine si impadroniati tutti i suoi sensi ma io ti ho sottomesso alla cupidigia della morte e sta in te comandarla questo è storia della magia è un libro che chiunque ama l'esoterismo non può non avere è un libro Grazie a tutti.